Corona, virus, we've been working very hard on this, we've made tremendous progress. Nous sommes en guerre. Le nostre abitudini quindi vanno cambiate, vanno cambiate ora. Il Festival La Salute Globale è un concetto che va oltre, che si occupa delle grandi diseguaglianze, delle grandi pandemie, di come affrontare il rapporto tra ambiente e salute. La salute oggi non ha confini e quindi parlare di salute, per esempio, degli immigrati, significa parlare della nostra salute, perché significa affrontare temi, quale sarà la prossima pandemia, come si farà a sopravvivere alle malattie croniche, che oggi riguardano un italiano su due. Grazie.